Il vasto anticiclone presente in Atlantico e la depressione fredda presente sulla Russia continuano a far affluire sull'Italia correnti settentrionali. Noi rimaniamo sotto vento alle Alpi. Nei prossimi giorni queste correnti saranno meno fredde in quota. Per sabato prevediamo una usita variabile. Sarà una giornata piuttosto fredda, con temperature minime in pianura tra i meno 4 e i meno 7 e temperature massime che non supereranno i 4 o 5 gradi in pianura. Sulle Alpi sarà possibile anche qualche spolverata di neve ed in quota soffrirà vento da nord moderato. Per domenica prevediamo cielo tra sereno e poco nuvoloso sulle zone occidentali, più variabile invece in montagna e su quelle orientali. In quota soffrirà vento sostenuto da nord e sarà ancora una giornata piuttosto fredda, anche se temperature massime recupereranno qualche grado. Lunedì e martedì invece avremo un accumulo di aria umida nei bassi strati quindi avremo cielo tra il nuvoloso e il coperto su pianura e costa, forse anche qualche più vicine, tra variabile e nuvoloso invece in montagna. Dall'osservatore meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanuto.